Con la locuzione strategia della tensione si indica una teoria politica che si può riferire generalmente a un periodo storico molto tormentato della storia d'Italia. Si tratta degli anni 70 del XX secolo in particolare, conosciuto questo periodo anche come anni di piombo e c'è anche un video su questo canale. Quindi questa strategia della tensione, mediante un disegno avversivo, quindi al di là della legge, tendeva alla destabilizzazione e di conseguenza auspicava un disfacimento degli equilibri democratici che si venivano a costituire in quel periodo. L'arco temporale in cui viene messa in atto questa strategia della pensione è quello che va più o meno dalla strage di Piazza Fontana, quindi il 12 dicembre del 69, alla strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Alcuni studiosi retrodatano l'inizio di questa strategia addirittura agli anni successivi alla fine della seconda guerra mondiale con la strage di Portella della Ginestra il primo maggio del 47 o al 1964 con il piano solo che è appunto un fallito colpo di stato progettato dal generale dei carabinieri Giovanni De Lorenza. Allora, la strategia della tensione si basa su una serie di atti terroristici da attribuire ad altri rispetto a quelli che li hanno messi in atto. Quindi in questo caso erano gli anarchici o i comunisti, secondo la teoria della false flag, quindi falsa bandiera, volti a diffondere nella popolazione civile uno stato di terrore, quindi di paura, di insicurezza, al fine da giustificare o addirittura richiedere svolte politiche di stampo autoritario, quindi al fine di ripristinare l'ordine. Negli anni della strategia della tensione quindi si osserva una sorta di commistione tra il terrorismo neofascista e un mai chiarito fino in fondo terrorismo di stato, sostenuto da alcuni settori militari e politici che al fine appunto di combattere il comunismo erano disposti ad arrivare fino al colpo di stato, soprattutto dopo il movimento del 68 e il cosiddetto autunno caldo. La locuzione strategia della tensione è la traduzione italiana dell'originale, diciamo così, inglese, Strategy of Tension, coniata da Leslie Feiner, un giornalista del settimanale britannico The Observer, che appunto scrive un articolo il 7 dicembre del 1969, quindi soltanto 5 giorni prima della strage di Piazza Fontana. In questo suo articolo, basato su alcuni documenti segreti dell'MI-6, quindi il servizio segreto britannico, documenti sottratti dall'ambasciatore greco in Italia, Feiner fa riferimento a una strategia politico-militare degli Stati Uniti d'America, spalleggiata dal regime dittatoriale dei colonnelli greci, volta questa strategia a orientare un certo numero di governi democratici di alcune nazioni nell'area mediterranea attraverso una serie di atti terroristici allo scopo di favorire l'instaurazione di regimi e dittature militari. Per quanto riguarda il caso dell'Italia, appunto, sempre secondo Feiner, sarebbe stato in atto un piano che vedeva al centro l'allora presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, che lui stesso auspicava la creazione di una repubblica presidenziale, e appunto questo piano era volto a innalzare il livello dello scontro nelle forze sociali al fine di ottenere l'eliminazione delle sinistre e la creazione di una repubblica presidenziale, eccetera eccetera. Citiamo proprio le parole di Feiner, aperte virgolette, un gruppo di estrema destra e di ufficiali sta tramando in Italia un colpo di Stato militare con l'incoraggiamento e l'appoggio del governo greco e del suo primo ministro, Gheorghe Papadopoulos. Elezioni anticipate, liquidazione del centro-sinistra, ritorno al centrismo, riforma costituzionale, in senso presidenziale, definitiva e marginazione delle sinistre. Chiuse le virgolette. Quindi il movente principale della strategia della tensione, soprattutto in Italia ma anche nel quadro della guerra fredda, sarebbe stato quello di influire sul sistema politico democratico, rendendo instabile la democrazia per poi bloccare il progressivo spostamento dell'asse politico e governativo verso le forze di sinistra e di estrema sinistra, che all'indomani del 68 e dell'autunno caldo avevano rafforzato il loro ruolo nella società italiana. All'inizio degli anni 90, quindi siamo in tempi abbastanza recenti, il giudice per le indagini preliminari di Savona, Fiorenza Giorgi, nel decreto di archiviazione relativo a un'indagine su alcune bombe esplose in città tra il 74 e il 75, scrive quanto segue. Aperte le virgolette. Dal 1969 al 1975 si contano 4584 attentati, l'83% dei quali dichiara impronta della destra eversiva, cui si addebitano ben 113 morti, di cui 50 vittime delle stragi e 351 feriti. La protezione dei servizi segreti verso i movimenti eversivi appare sempre più plateale. Dopo la strage di Piazza Fontana alcuni movimenti radicali, in particolare dell'estrema sinistra, adottano gli slogan strage di Stato o terrorismo di Stato per indicare il fatto che secondo loro ci fosse la partecipazione nascosta di settori dello Stato in azioni terroristiche ai danni del proprio popolo. Il 14 novembre del 1974 esce sul Corriere della sera l'articolo dal titolo Cos'è questo golpe? Io so, scritto dallo scrittore intellettuale Pierpaolo Pasolini, in cui appunto accusa la democrazia cristiana e gli altri partiti suoi alleati di governo di essere i veri mandanti delle stragi di quegli anni a partire da Piazza Fontana. È un articolo molto bello, vi consiglio di leggerlo, non ve lo leggo ma ne cito solamente una frase. Aperte virgolette. Io so i nomi delle persone serie e importanti che stanno dietro ai tragici ragazzi che hanno scelto le suicide, atrocità fasciste e ai malfattori comuni, siciliani o no, che si sono messi a disposizione come killer e sicari. Io so tutti questi nomi e so tutti i fatti, attentati alle istituzioni e stragi di cui si sono resi colpevoli. Io so, chiuso di leggerla. E poi ancora nel settembre del 1975, quindi un paio di mesi prima di essere ucciso, sempre Pasolini scrivere queste pesantissime parole. Andreotti, fanfani, rumor e almeno una dozzina di altri potenti democristiani dovrebbero essere trascinati sul banco degli imputati. Equivi accusati di una quantità sterminata di reati. Indegnità, disprezzo per i cittadini, manipolazione del denaro pubblico, intrallazzo con i petrolieri, con gli industriali, con i banchieri, collaborazione con la CIA, uso illegale di enti come il SID, responsabilità nelle stragi di Milano, Brescia e Bologna. Chiuse le virgolette. Citiamo adesso dal cosiddetto memoriale Moro, che è appunto una serie di scritti a mano dell'onorevole Aldo Moro durante la sua prigionia, aperte virgolette. La cosiddetta strategia della tensione ebbe la finalità, anche se fortunatamente non conseguì il suo obiettivo di rimettere l'Italia nei binari della, tra virgolette, normalità, dopo le vicende del 68 e il cosiddetto autunno caldo. Si può presumere che paesi associati a vario titolo alla nostra politica e quindi interessati a un certo indirizzo vi fossero in qualche modo impegnati attraverso i loro servizi di informazioni. Su significative presenze della Grecia e della Spagna fascista non può esservi dubbio. E lo stesso servizio italiano, per avvenimenti venuti poi largamente in luce e per altri precedenti, può essere considerato uno di quegli apparati italiani sui quali grava maggiormente il sospetto di complicità. Fautori ne erano in generale coloro che nella nostra storia si trovano periodicamente, e cioè a ogni buona occasione che si presenti, dalla parte di chi respinge le novità scomode e vorrebbe tornare all'antico. Tra essi erano anche elettori e simpatizzanti della DC. Non soli, ma certo con altri, lamentavano l'insostenibilità economica dell'autunno caldo, la necessità di arretrare nella via delle riforme e magari di dare un giro di vite anche sul terreno politico. Ricordo nuovamente che queste parole sono tratte dal cosiddetto Memoriale Moro, i suoi scritti appunto durante il periodo di prigionia. Gianna Delio Maletti, un esponente, ex esponente del SID dal 1971 al 1975, ora cittadino sudafricano e con diverse condanne pendenti in Italia, tra cui quelle relativi ai depistaggi dei servizi nelle indagini sulle stragi di Piazza Fontana, appunto Gianna Delio Manetti il 4 agosto del 2000, in un'intervista rilasciata a Repubblica, parla del coinvolgimento della CIA nelle stragi compiute dai gruppi di destra. Secondo la sua testimonianza non sarebbe stata determinante la CIA nella scelta dei tempi e degli obiettivi da colpire, ma avrebbe fornito a ordine nuovo e a altri gruppi di destra, attrezzature ed esplosivo. Anche quello utilizzato nella strage di Piazza Fontana e questo supporto era dato con lo scopo di creare appunto un clima favorevole a un colpo di Stato simile a quello avvenuto nel 1967 in Grecia. Maletti sostiene inoltre che nonostante il SID informasse il governo di queste sue scoperte, al SID appunto il governo non chiese mai di intervenire per fermare queste stragi. Qualche mese dopo questa testimonianza la CIA respingerà esplicitamente le accuse e lo stesso Franco Freda, terrorista di destra, afferma che Ordine Nuovo, organizzazione di estrema destra in quegli anni, aveva una completa autonomia sia ideologica sia operativa. Altri studiosi storici sostengono invece che i servizi segreti italiani e internazionali non avevano un coinvolgimento diretto nelle azioni, però entro certi limiti lasciavano agire i gruppi neofascisti, secondo quella che poi è passata alla storia come la teoria degli opposti estremismi, al fine di evitare una crescita eccessiva dei gruppi comunisti. Ecco concludiamo con le parole del giudice Guido Salvini che indagò sulla strage di Piazza Fontana, aperte virgolette, anche nei processi conclusisi con sentenze di assoluzione per i singoli imputati, è stato comunque ricostruito il vero movente delle bombe. Spingere l'allora presidente del Consiglio, il democristiano Mariano Rumor, a decretare lo stato d'emergenza nel paese, in modo da facilitare l'insediamento di un governo autoritario. Erano state seriamente progettate in quegli anni, anche in concomitanza con la strage, delle ipotesi golpiste per frenare le conquiste sindacali e la crescita delle sinistre, viste come il, tra virgolette, pericolo comunista. Ma la risposta popolare rese improponibili quei piani. L'onorevole Rumor, fra l'altro, non se la sentì di annunciare lo stato d'emergenza. Il golpe venne rimandato di un anno, ma i referenti politico-militari favorevoli alla svolta autoritaria, preoccupati per le reazioni della società civile, scaricarono all'ultimo momento i nazifascisti, i quali continuarono per conto loro a compiere attentati. Chiuse le virgolette. Bene, questo video termina qui, spero lo abbiate trovato interessante. Come sempre, grazie per la visione. Ciao a tutti e alla prossima.